...maratone e per me è un piacere particolare essere qui a far parte della piccolissima capacità che ho, il piccolissimo volo che posso avere a far parte di questa maratona. Andiamo subito avanti, il pubblico è caldo, i temi che abbiamo toccato fino a questo momento sono ampi e sono tanti. Ora non cambiamo argomento, non facciamo un po' di...